0,28 Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Onora tuo padre e tua madre come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Basta! Sto comando di Dio, guardate che sta diventando un'ossessione. Al versetto 12 di Deuteronomio 5, osserva il giorno di sabato per santificarlo come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Onora tuo padre e tua madre come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Dio diventa il vero sovrano della gente. Non più il re, non più i popoli dominanti, ma colui che comanda per davvero il suo popolo è solo Dio. Non il re, non i babilonesi, non i persiani, non nessuno. Motivo Perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Dietro a questa frase c'è una paura folle di essere invasi e portati via in esilio. Se voi tornate alla cartina del primo schema, notate che nel 722 gli assiri senza tante storie hanno portato via la popolazione ebraica dei due quadratini superiori, cioè del Regno del Nord. Nel Deuteronomio, dunque, si dice, senti, è meglio che tu ti goda questa terra. Per godertela, uno dei modi per godertela è quello di essere rispettoso dei tuoi genitori. Linea 032, colonna di sinistra. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Sulla destra, invece, voi avete una piccola variante che nella traduzione italiana non c'è. Ve l'ho messa io. Avete quella congiunzione lì. Il che vuol dire che la linea 032, nel Deuteronomio, nella colonna di destra, voi avete, non ucciderai virgola, oppure senza virgola, e non commetterai adulterio, e non ruberai, e non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo, e non desidererai, e non bramerai. Ci siete? Voi dite, ma questa è un'inezia, una congiunzione, e cosa cambia? Cambia, cambia. E adesso lo vediamo. Ultima osservazione, l'abbiamo già vista, la linea 037. Da una parte avete la casa, con la donna annessa e connessa. Invece sulla destra avete la separazione, altro è desiderare la donna, altro è desiderare ciò che il tuo prossimo possiede. Ora, proviamo ad osservare, perché l'esegesi prima di tutto è osservazione. Se voi esaminate Esodo 20, cioè la colonna di sinistra, voi avete semplicemente, dalla linea 41 alla linea 51, un titolo, io sono Yahweh tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e poi inizia il decalogo. Tre divieti che riguardano Dio, due comandi, e poi cinque divieti, uno dietro l'altro, ma senza nessun legame tra di loro. Non c'è nessuna congiunzione. C'è semplicemente, proibito questo, proibito l'altro, proibito quest'altro. C'è un legame tra il proibire l'omicidio e proibire l'adulterio? No, non c'è nessun legame. Tra non rubare, non dire falsa testimonianza? No, nessun legame. Nel decalogo di Esodo 20, niente legami, semplicemente una serie di comandi. Proviamo a vedere, invece, Deuteronomio 5. In Deuteronomio 5 ci sono degli elementi per poter fare questo tipo di suddivisione. Avete, dalla linea 53 a 55, la suddivisione più semplice, per cui avete i comandamenti relativi a Yahweh nella prima parte. Al centro avete il comandamento del sabato, che, guarda caso, è il più lungo. E poi avete i comandamenti sociali. Norbert Lofing, che è un grosso studioso del Deuteronomio, dice «Beh, se vogliamo essere più precisi a livello formale, dovremmo andare alla linea 56-61, dove sì, all'inizio c'è un titolo, come alla linea 41 in Esodo 20. Ma poi avete un comandamento lungo, breve, lungo, breve, lungo. C'è un'alternanza particolare. Di questa lunghezza, brevità, lunghezza, brevità, lunghezza. L'adorazione di Dio è lungo, nome di Yahweh è breve, sabato lungo, genitori breve, i comandamenti morali, messi tutti insieme, sono lunghi. Abbiamo dunque strutture letterarie diverse, ma cosa si nasconde dietro a queste strutture letterarie? Si nasconde in qualche cosa di estremamente serio. Partiamo subito da ciò che è più serio, poi andiamo a ciò che è meno serio. E per vedere ciò che è più serio andate alla linea 79. Leggendo il testo del Deuteronomio con le congiunzioni, ci si chiede perché ci sono queste congiunzioni. Perché sono andati a perdere tempo a mettere un UÈ? La congiunzione E in ebraico, UÈ. Non ucciderai e non pronuncerai e non commetterai adulterio, non desidererai la donna ad altri e non ruberai e non bramerai la casa del tuo prossimo. Perché? Provate ad osservare. Questi sei comandamenti sociali sono legati tra di loro da che cosa? Non guardate me, guardate il testo. Ciò che è importante qui tra di noi è il testo. Provate a chiedervi la bugia a che cosa è legata. Leggete con attenzione il comandamento della bugia. È legata al tribunale. Tu, in tribunale, non devi mentire. Perché, se menti, l'imputato può essere ucciso. Perché non esisteva l'ergastolo nell'antichità. O ti picchiavano come punizione, o ti costringevano la schiavitù per restituire i soldi, o ti ammazzavano. Non c'erano spese per le carceri. E quindi una falsa testimonianza era la premessa per l'uccisione del tuo prossimo. L'adulterio aveva una premessa. Non desiderare la moglie. E il furto aveva una premessa. Non bramerai la casa del tuo prossimo. Che cosa trovate? Se voi notate, il decalogo del Deuteronomio in questa seconda formulazione analizza la causa di certe azioni negative e lega l'intenzione all'azione. La falsa testimonianza in tribunale è intenzione di omicidio. Il desiderare la donna d'altri è intenzione di adulterio. Il bramare le cose degli altri è intenzione del furto. E quindi il Deuteronomio non ti proibisce solo azioni, ma ti proibisce anche di coltivare i pensieri da cui derivano le azioni. E per la prima volta nella storia viene sanzionato il pensiero. Viene sanzionata l'intenzione. Fino a quel momento lì le redazioni dei codici riguardano l'azione esterna. Il Deuteronomio fa il salto radicale di qualità, dice no. Prima di sanzionare l'azione esterna bisogna sanzionare l'intenzione. Perché se tu hai pulizia mentale le azioni non le fai. Ma se tu sei sporco mentalmente purtroppo le azioni le fai. Notate che cosa si nasconde dietro a quella semplice congiunzione messa in più. C'è l'intenzione chiarissima di legare nei comandamenti sociali i primi tre comandamenti che sono azioni esterne a quello che è la formulazione del pensiero progettuale che è azione interna dove nessuno può giudicarti ma solo tu sai se sei sporco o se sei pulito. Capite perché quando i miei colleghi i neotestamentaristi parlano della predicazione di Gesù dicono che Gesù è legato alla teologia del Deuteronomio. Se tu guardi una donna per desiderarla hai già commesso peccato nel tuo cuore. non è una novità Gesù non sta altro che traducendo in formula serenamente chiara questo concetto del Deuteronomio. I grandi teologi della fine del settimo secolo avevano già elaborato in maniera chiara semplicemente introducendo questo UE dentro al Decalogo. Capite? Con questo piccolo esempio adesso vediamo le altre due modifiche più importanti con questo piccolo esempio voi notate come il cambiamento delle leggi non sono capricci momentanei non sono frutti di moda ma sono frutti di nuova acquisizione di nuova profondità di nuova attenzione a certe cose. Il codice precedente questa attenzione non ce l'aveva. Allora quando si parla delle varianti che si trovano nel Deuteronomio e si dice c'era più sensibilità e c'era un movimento femminista è vero ma è anche altrettanto vero che questo movimento femminista cioè questo movimento sano che restituisce alla donna la dignità primordiale così come Dio l'ha voluta in quanto Dio non ha voluto che l'uomo comandasse sulla donna. Adamo dice questa volta essa è carne della mia carne osso della mia ossa la si chiamerà non io la chiamo lei è padrona di se stessa o casomai è Dio padrone della donna ma non in maschio il Deuteronomio riscopre questa logica ma la riscopre quando quando incomincia a capire che l'intenzionalità delle persone è ciò che è fondamentale nel comportamento guardate che una svolta radicale noi abbiamo delle persone che predicano benissimo e sono sempre pronti a dire tu sbagli la domanda è duplice hanno ragione perché può darsi che abbiano ragione ma l'altra domanda è perché lo fanno vogliono pulirsi di qualche cosa molto spesso noi ci rifacciamo una verginità quando troviamo un sacrosanto gusto di dire tu sei colpevole sono meccanismi che gli psicologi hanno un'arte perfetta nello svelarceli i primi che hanno scoperto questo gioco infernale dentro la nostra testa a livello morale sono stati i teologi del settimo secolo e hanno detto amici miei vuoi una vita morale corretta si onesto mentalmente sempre non essere condizionato dagli altri tu devi ascoltare chiunque ma poi la grande pulizia mentale non è nel fare è nell'essere perché tu puoi mentire a tutti tranne che a te stesso le altre varianti le troviamo le altre varianti più importanti perché dovremmo leggere il testo ebraico per poter vedere tutte le varianti in maniera esatta ma le varianti più importanti che noi pellegrini possiamo cogliere è la variante sul comandamento dei genitori l'osservanza di questo comandamento nel codice più antico esodo 20 è semplicemente un modo di comportarsi nel Deuteronomio viene giustificato come un comandamento che genera felicità perché? perché ci togliamo i sensi di colpa? no perché Geremia che contemporaneo al Deuteronomio dice amici miei se noi continuiamo a fare atti di culto e a comportarci da lazzaroni il Padre Eterno ci dà tanti di quelli scapellotti che andremo a finire schiavi a Babilonia se invece noi osserviamo le leggi morali con culto senza culto non è importante Dio non ci condurrà schiavi a Babilonia e poi siccome Geremia non era un moralista spiega dice se noi osserviamo le leggi di Yahweh le leggi di Yahweh creano rapporti sociali puliti e quindi rapporti politici puliti ma se noi non osserviamo le leggi di Yahweh noi creiamo rapporti sociali sporchi e quindi rapporti politici sporchi e quando ci sono rapporti politici sporchi ne pagheremo le conseguenze capite? ora chi ti insegna i primi rudimenti della morale? i genitori non la scuola non lo stato non la chiesa i genitori e allora tu devi dare il giusto peso ai genitori e allora vivrai felice capite la logica? l'altra variante la troviamo nel comandamento del sabato ma avremo altra occasione per parlarne più in profondità buon Natale grazie della pazienza